Lady Gaga è sbarcata in Laguna, a Venezia in compagnia del fidanzato Michael Polanski. La cantante è apparsa felicissima e innamorata più che mai accanto al futuro marito, tra baci, abbracci e momenti romantici catturati dalle telecamere che attendevano da giorni il suo arrivo. Il red carpet per la prima di Joker, folia de «è atteso per domani», 5 settembre. Nel frattempo la regina del trasformismo si dedica all'amore e ai fan. Lady Gaga è arrivata a Venezia con un look totalmente diverso da quello indossato sei anni fa, in occasione della presentazione di «A Star is Born», sempre a Venezia. Questa volta Gaga ha optato per un look molto più sofisticato, un mini dress up a firmato la Rox dal fascino retro, realizzato su misura per lei, come rivela io donna, un bustier con maniche lunghe e girocollo, una gonna corta e ben definita e una cintura in tinta che evidenzia il punto vita. L'outfit era completato da occhiali da sole scuri, collant grigi e scarpe decollette di suede. Lady Gaga vestirà protagonista femminile di «Joker», folie a «de» e sfilerà domani insieme a Joaquin Phoenix. Questa sarà la seconda volta a Venezia per Lady Gaga che già nel 2018 aveva incantato tutti insieme a Bradley Cooper, quando arrivarono insieme per presentare A Star is Born, che segnò il suo primo vero successo nel mondo del cinema. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.